Ciao a tutti! Oggi proverò un esperimento epico, e cioè andare a riassumere due video e una live di casa D'Alimberti senza annoiarvi, senza annoiarmi e nel minor tempo possibile. Ce la farò? Proviamoci! Allora, cominciamo innanzitutto con il video flash, ma veramente molto flash, intitolato TG D'Alimberti, vlog flash. Allora, ci appare lei in camera da letto, cipollata, la bajura è accesa si vedono gli ignomi sul letto, si vede questo sfondo rosa con i cuoricini e lei praticamente ci dà il buongiorno perché pare che sia mattino e ci dice, ci avverte che nella giornata odierna, cioè quindi oggi praticamente uscirà un video e ci sarà anche una live di se stessa medesima a quanto pare e poi ci dice che ha finalmente montato, sistemato, non montato, perché era già montata la libreria, che lei è felicissima, che le piace tantissimo e che non solo l'ha sistemata ma l'ha anche decorata per Natale, perché voi sapete perfettamente che loro rivivranno il Natale con cenone e tutto annesso. Io adesso mi chiedo, cioè a te piace il Natale e ormai sappiamo tutti questa cosa, però a quelle persone che abitano con te e che il Natale lo hanno già vissuto una volta e gli è bastato, cioè non ti sembra sembra, scusate, un po' egoistico voler rifare tutto da capo, va bene, non si sa dettagli. E passiamo alla live di Davide che si intitola Buon sabato pomeriggio. Notiamo che si è fatto la coda, ha una maglietta rossa, si è fatto la barba e comunque insomma sta abbastanza in ordine, diciamolo, insomma rispetto alle altre live sicuramente. Cominciamo col dire che qualcuno gli parla dell'Erasmus, cioè che deve partire tra un mese per questa avventura fra virgolette, che però non ha ancora trovato la casa perché è difficile nel paese dove deve andare affittare un appartamento se le persone del luogo non ti vedono di persone e quindi non capiscono se sei o meno una persona affidabile. E allora lui che cosa dice? Dice che visto che uno deve andare lì per studiare sarebbe la scuola stessa che deve occuparsi della casa, di trovare la casa diciamo agli studenti che devono appunto andare lì per studio e se non trovano la casa quantomeno pagare l'albergo affinché questa persona insomma possa andare lì in tutta calma, andare in questo albergo pagato dall'Erasmus e trovarsi con calma un appartamento. Quindi signore e signori, ragazzi e ragazze, se state per partire per una, non proprio per l'Erasmus, diciamo anche per una città che è diversa dalla vostra per andare a studiare all'università insomma e non riuscite a trovare l'appartamento insomma sappiate che dovrebbe essere l'università stessa a trovarvi alloggio. Comunque lui non sa neanche cos'è l'Erasmus, infatti poi chiede, Chiara gli risponde che è uno scambio culturale diciamo. Dice, lui afferma che ancora non hanno messo la telecamera perché non hanno tempo, io non capisco come non fanno in tempo a ritagliarsi un attimino per fare queste cose insomma che servono al loro canale. Poi parlano dei genitori perché praticamente viene in chat la socerina, si parla dei genitori, si dice che praticamente ci sono persone molto fortunate ad avere ancora i genitori, alcuni utenti gli dicono che loro non ce l'hanno più anche se insomma hanno un'unità abbastanza diciamo avanzata e lui insomma dice che va bene, è triste quando muoiono i genitori però insomma quando uno li ha vissuti abbastanza nel senso che i genitori avevano una certa età insomma bisogna anche lasciarli andare e pensare a quello che si è vissuto insieme, mettiamola così. E che è molto più difficile perderli da piccini perché giustamente poi ci si ritrova senza qualcuno insomma che ti guidi, questo lo dico io ma penso che è quello che voleva dire lui insomma bisogna anche interpretare. E poi spara la bomba e cioè dice che i genitori e i nonni sono persone che vanno sempre viste e vissute e se lo dice lui che vive i suoi genitori in maniera così esemplare insomma ci crediamo tutti quanti. Cominciano ad entrare i trollini e cominciano insomma a fare le battute anche un pochino pesanti diciamocelo. Si sente chiara che nel frattempo che sbatte i tegami a un certo punto comincia con una frusta quindi si suppone che stia preparando qualcosa da mangiare. C'è l'ennesima battuta della nonna nel freezer e lui risponde ce l'hai tu nel freezer brutta bacca. Luciana cosa fa? Ride della battuta come al solito però nel frattempo lo riprende anche però si sa che insomma se tu ci ridi della battuta poi il fatto che tu lo riprendi passa in secondo piano quindi resta che tu della battuta ci stai ridendo. E anche la socerina però a questo punto interviene in chat dicendo a Davide hai fatto bene è una vacca. Una cosa bisogna dire che quando la famiglia è così unita nel dare della vacca a un utente insomma signori questo è veramente spirito familiare. Una famiglia che va così d'accordo e da prendere ad esempio. Al solito lui agli haters dice venite qui conigli affrontatemi faccia a faccia le solite cose che lasciano il tempo che trovano alla fine. a un certo punto parlano della foto delle gatte che è sempre dietro loro quando fanno le live e parte una discussione perché Luciana dice che quella foto l'ha fatta un certo Cesare penso che sia il primo ragazzo di Sharon se non vado errata e invece Davide dice che l'ha fatta proprio Sharon e che Cesare praticamente non ha fatto altro che la stampa praticamente ha unito le due fotografie e ha fatto la stampa e da a Cesare del frescone. Luciana gli dice come ti permetti di dare del frescone e lui dice che non lo sta assolutissimamente insultando che frescone insomma si dice tra amici è una cosa amichevole diciamo come Pirla evidentemente quindi da oggi in poi possiamo chiamare Davide Pirla frescone. Gli ricordano che qualcuno degli utenti gli ricorda che lui una volta ha mangiato del cibo per cani lui dice che sì effettivamente quando era piccolo ha mangiato questo cibo per cani che poi non era neanche tanto male a sentir lui e si sente chiara dall'altra parte che evidentemente lo disapprova perché insomma dice che schifo. I troll continuano a imperversare nella chat lui si rivolge a Chiara e gli dice posso dire una volgarità e Chiara gli dice di no e lui spara gli faccio la pupù in testa che secondo lui comunque non è una volgarità io dovevo vedere deve esistere da qualche parte un dizionario italiano dall'imberti dall'imberti italiano perché altrimenti insomma non si spiega. Per l'ennesima lui si alza non so cosa va a fare va andrà a fumare andrà a farsi il caffè io non lo so e Luciana per l'ennesima volta esce dalla live non so se avete fatto caso evidentemente lei quando è in live legge non legge perché smanetta molto col cellulare ogni tanto si ritrova fuori e il genere lo deve la deve riportare dentro. Comunque ad un utente che non so cosa gli dice perché ho visto questo video indifferita lui dice di stare a cuccia Chiara dall'altra parte abbaia e ancora qui il legame familiare si sente forte e la Luciana infatti ribadisce a quest'utente di stare a cuccia. Dopodiché questa veramente è particolare nasce una discussione sul fatto di sbannare gli utenti perché perché molti utenti dicono che sono ancora bannati e che loro cioè Chiara e Davide non li hanno ancora sbannati anche se l'hanno richiesto molte volte. Al che Davide scocciatissimo in una maniera non vi dico niente dice che questi utenti non capiscono niente perché devono andare sotto la live del canale di coppia Chiara e Davide channel live praticamente chiedere lì di essere sbannati e dice insomma che non ci vuole un'intelligenza sopraffina per comprendere queste cose detto a parole mie ma insomma è quello il senso e a quel punto Luciana si ribella perché dice che lui non può trattare gli utenti in questa maniera perché se gli utenti gli chiedono di essere sbloccati giustamente è per partecipare comunque alle live e lui deve anche tener conto di quello che vogliono gli utenti e lì si incavola Davide perché insomma ed è anche abbastanza evidente questa questa incavolatura perché dopo una discussione abbastanza è accesa con la suocera si rivolge alla moglie e le dice praticamente che questa Luciana va sempre contro di lui e a favore degli utenti e praticamente lo mette sempre in cattiva luce poi si parla del Natale gli chiedono perché non vanno a fare in viaggio invece di rivivere questo Natale e lui dice che la moglie gli ha chiesto questo regalo per il suo anniversario e lui lo fa volentieri ma che comunque sarà un rivivere il Natale un po' così tranquillo e quando sente invece che la moglie vuole rivivere tutto il Natale cenone compreso praticamente lui dice no ancora della serie proprio non gli va e questo l'ho detto anche per quanto riguarda il video flash di Chiara evidentemente queste persone che abitano con te non hanno nessuna voglia di rivivere il Natale fai un tu una carità e un gesto di altruismo e finiscila cioè il Natale anche perché non ha nessun senso rivivere il Natale secondo me quando il Natale è già passato cioè questo clima natalizio praticamente lo sente soltanto lei e passiamo al video spesa porcelloso e sano fatto da esse lunga questo lo dicono loro che è porcelloso e sano vediamo quanto sia porcelloso e quanto sia sano hanno speso 26 euro e 44 sullo scontrino però c'erano hanno si sono fatti scalare 27 euro quindi insomma fatevi voi i conti e cominciano con le porcellosità e cominciano con kinder cereali che andranno però nel cassetto con la chiave poi il cioccolato gianduia con nocciola gli sneakers 4 cioè una confezione da 4 due kinder cioccolato e questo per quanto riguarda le porcellosità che penso andranno tutte a finire in quel famoso cassetto con la chiave di cui non sappiamo chi ha i duplicati comunque poi ci fanno vedere le cose sane e c'è una confezione di spinaci da 500 grammi con cui lei farà un tortino o un contorno perché le verdure fanno molto bene l'insalata mista e poi lei ci fa sapere che quando si compra online c'è molta più scelta e anche più sconti e sarà così io sinceramente non ho mai provato l'acquisto online e vedremo un attimino se provarla poi ci fanno vedere una rete di arance una spremuta di arance tropicana e lui a un certo punto legge male e dice una spremuta d'arancia surgelata poi la moglie gli spiega che non è surgelata che ha letto male e quant'altro pere williams una confezione di pomodoro a grappolo i viusterini uoi che non devono mai mancare in una casa i bocconcini mozzarella e selunga un formaggio grattugiato galbani gran gusto io sinceramente non so se è uno un formaggio specifico o se è un mix di altri formaggi sinceramente non l'ho capito gorgonzola dop e prosciutto cotto anche quello in una casa non deve mancare mai il goda per la farcitura ah no scusatemi allora prosciutto cotto e goda andranno in un tortino salato con la farcitura per i toast io l'unica farcitura per i toast che conosco è quella sott'olio io non credo che metterà quello nel tortino cioè me lo auguro spero sinceramente comunque poi il salame citteri due confezioni una busta per quattro di mozzarella cioè una busta sola e dentro ci sono quattro mozzarella bocconcini morbidi di pane sei bocconcini morbidi delle trofie carta igienica una busta di croccantini per le gattine e anche quattro buste di umido sempre per le gattine allora io qui ho finito nel senso che vi ho raccontato tutto manca un piccolo siparietto per quanto riguarda le verdure gratinate perché pare che il Davide abbia visto come si fa questa gratinatura praticamente con il pangrattato appunto e dice che lei dice va bene vedremo a breve se provarlo o meno casomai lo mettiamo insieme al riso alla cantonese cioè anche la moglie ha trollato il marito e niente questo è tutto da casa da Limberti io vi ho veramente sintetizzato tantissimo e spero insomma che questo audio vi abbia intrattenuto io vi saluto vi mando un grosso 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 bacio se volete iscrivetevi al canale se volete lasciatemi un like se volete lasciatemi dei commenti ciao 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 ciao